ciao a tutte oggi sono stato da piazza italia e ho fatto un po di shopping e quindi oggi vi faccio un haul di piazza italia allora ho comprato solamente un paio di tolice ma molto carine prima di tutto ho acquistato questa canotta con pizzo sangallo davvero molto carina fa parte della nuova collezione costa solo 10 euro vediamo di questa ho preso una m perché veste piuttosto grande poi la seconda cosa che ho acquistato è un cardigan che invece veste piccolissima perché ho dovuto prendere una xl e questo cardigan vediamo ai dettagli in lurex è molto il colore veramente vinaccia ed è veramente veramente bello e dunque ecco questo per oggi è il mio haul spero che vi sia piaciuto se vi piacciono i miei articoli fatemi sapere o se non vi piacciono comunque e per favore se vi piace il mio canale iscrivetevi ciao